Il Presidente della Repubblica. A inizio la cerimonia celebrativa del centottantesimo anniversario del Consiglio di Stato. Prende la parola il Presidente del Consiglio di Stato, Dottor Pasquale Delise. Signor Presidente della Repubblica, autorità, signore e signori. Desidero esprimere al Capo dello Stato la più viva e profonda riconoscenza di tutta la magistratura amministrativa per aver voluto ospitare nel Palazzo del Quirinale, il luogo più caro agli italiani, la cerimonia celebrativa dei centottanta anni del Consiglio di Stato. L'evento di oggi costituisce il punto più avanzato di un percorso di inusuale lunghezza e ricchezza per un'istituzione dello Stato, le cui pronunce sono ormai patrimonio acquisito della nostra civiltà giuridica e sociale. È un anniversario che coincide con quello dei centocinquanta anni dell'Unità d'Italia e ciò rappresenta in modo simbolico il nostro lavoro come servizio reso al Paese e ai suoi cittadini. La storia di questi centottanta anni è infatti quella della garanzia di un servizio, non dell'esercizio di un potere. È la storia della continua ricerca di quel miglioramento delle cose pubbliche indicato sin dal 1831 dall'editto di Racconigi. Il prestigio dell'Istituto e dei suoi componenti, la marcata indipendenza di azione, la costante modernità dell'interpretazione del suo ruolo, ne hanno consentito l'evoluzione anche in contesti storici differenti. Sorto come organo consultivo per temperare l'assolutismo reggio con le aspirazioni liberali, il Consiglio di Stato dell'epoca albertina si fece subito pioniere delle garanzie nei confronti dell'amministrazione. Dopo l'Unità d'Italia, quando la scelta della giurisdizione unica si rivelò presto inidonea ad assicurare una efficace tutela del cittadino, apparve necessario rivolgersi al Consiglio di Stato per completare il sistema giurisdizionale. Il Consiglio continuò a esercitare il ruolo di garante della giustizia nell'amministrazione a difesa del cittadino nei confronti del potere pubblico, non solo durante i governi democratici ma anche durante il regime fascista, nei cui confronti seppe mantenere, come è stato riconosciuto fin dall'Assemblea Costituente, un alto grado di autonomia. La Costituzione repubblicana ha consolidato l'assetto della giustizia amministrativa innestandovi nuovi principi e nuovi profili di organizzazione generale. In tal modo si è consentito ad un sistema che aveva dimostrato di funzionare bene in passato, di fornire un'efficace risposta di giustizia anche in un contesto del tutto nuovo. È stata conservata in particolare la coesistenza delle funzioni consultive giurisdizionali, consacrando quella intima unità delle sue attribuzioni, che nella visione di Santi Romano implicano entrambe un sindacato sugli atti amministrativi, l'uno preventivo, l'altro successivo, che si integrano e si completano a vicenda. La Costituzione ha inoltre delineato un sistema di tutela pieno ed effettivo degli interessi legittimi, sì da rendere il giudice amministrativo, come la Consulta ha avuto modo di chiarire negli anni più recenti, non un giudice speciale, bensì il giudice ordinario del legittimo esercizio del potere pubblico in una visione di unità funzionale, non organica, della giurisdizione. La modificazione certamente più significativa rispetto all'assetto originario è stata la nascita nel 1971 dei Tribunali amministrativi regionali, ed è emblematico che il centottantesimo anniversario del Consiglio di Stato cada contemporaneamente al quarantennale della legge istitutiva dei Tar. Essi sono parte integrante del sistema unitario della giustizia amministrativa, del quale rappresentano al contempo il primo contatto con i cittadini e l'elemento di diffusione e di radicamento nel territorio. Nel corso degli anni il sistema della giustizia amministrativa ha mostrato di saper cogliere, incoraggiare e talvolta addirittura anticipare i progressivi profondi multamenti che hanno investito e continua a investire l'amministrazione pubblica, elaborando nuovi strumenti, raffinando quelli esistenti, sviluppando le molteplici potenzialità insite nei principi costituzionali. Basti pensare a quello del giusto processo e nei valori sostanzialistici del diritto europeo. Un importante fattore di trasformazione è derivato anche dai processi di privatizzazione e di liberalizzazione di ampi settori dell'economia. Il mutamento dello Stato da imprenditore a regolatore non ha ridotto il ruolo del giudice amministrativo, ma lo ha in parte modificato in quello di garante dei garanti della concorrenza e della regolazione nei principali settori produttivi, portandolo a divenire il giudice naturale dell'interesse pubblico nell'economia. Questa evoluzione ha trovato il proprio coronamento con l'adozione del codice del processo amministrativo dello scorso anno. Il risultato di un'operazione già in precedenza tentata e mai portata a compimento, che costituisce ad un tempo la testimonianza dei cambiamenti che hanno caratterizzato la giustizia amministrativa e lo strumento per valorizzarli anche mediante il loro inserimento in un sistema organico di tutele. Nel codice hanno trovato infatti consacrazione il diverso ruolo del giudice amministrativo, che si esprime nella maggiore qualità dei poteri ad esso attribuiti. Il cambiamento dell'interesse legittimo è divenuto posizione sostanziale e tutelata anche per equivalente, ed il mutamento delle manifestazioni del potere pubblico non più identificate nel solo provvedimento autoritativo. In questo quadro di profonde trasformazioni un ruolo fondamentale viene svolto dal nostro organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nel quale la presenza dei membri laici realizza il collegamento con il Parlamento e quindi con le istanze generali della società. Gli anniversari servono per ritrovare le proprie radici e per guardare al futuro con più fiducia, voltarsi indietro per riscoprire la storia della nascita, del rafforzamento e dello sviluppo della giustizia amministrativa, vuol dire rinnovare quel idem sentire che talvolta sembra mancare nel nostro Paese e rinvenire nuovo slancio per compiere al meglio il nostro dovere di servitori dello Stato. Guardare alla tradizione quindi, ma nello stesso tempo svolgere lo sguardo al futuro. Viviamo tempi di grandi cambiamenti e di grandi difficoltà. La drammatica crisi economico-finanziare in atto nel nostro Paese e in tutto il mondo impone scelte coraggiose e incisive cui non può restare estraneo il sistema della giustizia amministrativa. La globalizzazione supera molti spazi e traccia nuovi confini, muta le realtà nazionali e quelle locali, modifica le identità e ridisegna i rapporti tra autorità e libertà. I grandi processi migratori pongono in una luce prima non conosciuta la questione della cittadinanza e della coesione sociale. Le dinamiche dell'integrazione europea e del commercio mondiale introducono elementi non solo di confronto ma anche di competizione fra gli ordinamenti. Ciò rende indispensabile un costante dialogo tra le corti per evitare ciò che un illustre giurista ha definito caos di Babele. Pubblico e privato si intrecciano secondo sequenze non consuete. La giustizia amministrativa accompagna questi processi. Nuovi diritti del cittadino nei confronti dei poteri pubblici, privatizzazione e liberalizzazione, organizzazione dei grandi servizi e qualità delle prestazioni, attività di regolazione e sindacati sugli atti delle autorità indipendenti, costituiscono i settori verso i quali si muovono oggi i nostri orizzonti. Il Consiglio di Stato ha avuto sinora la capacità di evolversi, rispondendo alle esigenze dei diversi contesti storici e cogliendo le pulsioni della società, poiché con le sue pronunce, ma anche con i modi e i tempi del suo processo ha apportato un contributo di semplificazione, ha favorito l'attuazione e l'accelerazione dei cambiamenti e ha costituito un fattore di sviluppo e di competitività, di crescita e di modernizzazione del Paese. Tutto ciò ha consentito alla giustizia amministrativa di raggiungere un elevato livello di efficienza nel quadro del sistema giudiziario italiano. Come ha affermato il Professor Cassese, la qualità dell'offerta di giustizia amministrativa è dimostrata dal costante aumento della sua domanda. Ma nel lavoro della giurisdizione non esiste un traguardo al quale ci si possa fermare, un obiettivo finale. Esiste solo l'impegno costante ad adeguare le esigenze di tutela all'evoluzione, anch'essa costante, della società, dei costumi, dei valori, delle idee e quindi delle aspettative di chi domanda giustizia. Ci ritroviamo pienamente nelle parole del Vicepresidente del Consiglio d'Etaggio, Marc Sauvé, che ringrazio per la sua presenza, secondo cui, al di là delle differenze ordinamentali, la giustizia amministrativa trova radice nella tradizione giuridica, ma si nutre della modernità del diritto, anche di derivazione comunitaria e internazionale, costituendo un ponte ideale tra il passato e il futuro della società. Il Paese ha necessità di una giustizia sempre più rapida e sempre migliore, una giustizia che sia in grado di offrire una risposta concreta in termini di tutela alle aspettative dei cittadini, di fornire indirizzi chiari all'amministrazione, di offrire al sistema Paese riferimenti stabili in un quadro normativo spesso incerto. Le sfide di oggi riguardano, da un lato, il progresso nel cammino delle conquiste giurisprudenziali, soprattutto con l'affermazione della satisfattività della tutela del cittadino, ma riguardano pure, dall'altro, la necessità di non perdere la visione di sistema della giurisprudenza, di assicurare la chiarezza e la univocità degli indirizzi, di considerare che la certezza del diritto è divenuta diritto alla certezza. I valori fondamentali cui la magistratura amministrativa deve continuare ad ispirarsi affinché questa evoluzione possa proseguire sono almeno tre. Responsabilità, professionalità e indipendenza. Responsabilità. Il nostro è un pronuncio del giudice amministrativo su temi di grande attualità, spesso anche di rilievo politico, ci rende più esposti che in passato ai giudizi e alle critiche. Di fronte a ciò è necessario rispondere con il nostro lavoro, con il nostro senso del servizio, tenendo presente la necessità di dover rendere conto dell'attività svolta non solo alla nostra coscienza, ma anche all'esterno, ai cittadini, al Paese. Il prestigio di cui l'istituzione ha goduto fin dalla sua nascita oggi non è più correlato all'esercizio della funzione, ma al modo con cui la si esercita. Dobbiamo quindi lavorare per rafforzare la fiducia e il rispetto nei confronti della giustizia amministrativa. Così come dobbiamo assicurare il valore del decoro, evitando atteggiamenti, secondo la sua definizione, signor Presidente, impropriamente protagonistici o personalistici. Professionalità. I giudici amministrativi devono essere sempre più attrezzati, anche culturalmente, alle nuove esigenze del diritto e del processo. Le selettive modalità di accesso per il Consiglio di Stato e per i TAR garantiscono una rigorosa valutazione del magistrato al suo ingresso in carriera. Ma questo non deve consentirci di dare per scontata, negli anni successivi, una professionalità che va invece aggiornata e dimostrata, giorno per giorno, nelle aule d'udienza. Indipendenza. È il supremo valore che dobbiamo meritare con la responsabilità e con la professionalità di cui ho appena detto. Il Consiglio di Stato è da 180 anni un'istituzione di garanzia e di tutela, da oltre 120 un giudice indipendente di fronte al potere pubblico. Indipendenza non vuol dire rinchiudersi in una turris e burnea, isolarsi dal tessuto civile del Paese, né tantomeno rivendicare competenze nei confronti di altre istituzioni, ma svolgere senza condizionamenti un servizio alla collettività, una missione di giustizia per i cittadini. La circostanza di celebrare il nostro anniversario qui con lei, Signor Presidente, è per noi motivo di orgoglio, ma è anche la dimostrazione dell'indipendenza della magistratura amministrativa che riconosce nel Capo dello Stato il garante supremo dei valori della Costituzione. Per questo la ringraziamo, Signor Presidente. Del suo sostegno abbiamo bisogno, per continuare ad assicurare, nella perenne dialettica fra tradizione e modernità, la giustizia intesa in senso ampio, quale, come diceva Aristotele, virtù nel vero senso della parola. Grazie. Prende ora la parola il giudice della Corte Costituzionale, Professor Sabino Cassese. Il Consiglio di Stato sta in un rapporto storico di continuità con un istituto col quale sta in antitesi per quanto riguarda la reciproca loro natura e portata. In questa frase, scritta da Vittorio Emanuele Orlando, 30 anni dopo l'unificazione e due dopo la Costituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato e quindi dell'inizio della sua vita moderna, è riassunta una gran parte della storia dell'organo di cui oggi festeggiamo il centottattesimo anniversario. Perché ho iniziato citando Orlando e perché quella frase? Orlando, sia in quanto è stato il fondatore della Scuola Italiana di Diritto Pubblico, sia perché è nato nei giorni dell'impresa garibaldina in Sicilia, accompagnato con la sua lunga vita una gran parte della storia dello Stato italiano, svolgendo in essa ruoli molto importanti. Quella frase perché illustra lucidamente il primo paradosso che vorrei ricordare. Quello di un istituto, il Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato Albertino, che è nato come embrione del Parlamento, Rattazzi l'aveva definito organo moderatore del potere ministeriale, si è sviluppato come organo suggeritore del governo, secondo l'efficace espressione di Guido Melis, per divenire, come ha notato Jean-Marc Sauvé, il vicepresidente del Consiglio d'età, per l'istituzione sorella proprio del Consiglio d'età, tutore dello Stato di diritto e dei diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Io ho già percorso il lungo di panarsi delle diverse incarnazioni del Consiglio di Stato nella riunione romana del 16 marzo scorso dell'adunanza generale, per cui posso passare a quello che ho chiamato il secondo paradosso della storia di questo organo, che è il seguente. Festeggiamo quest'anno il centocinquantesimo anniversario dello Stato italiano e insieme il centottantesimo del Consiglio di Stato. Dunque il Consiglio ha una vita più lunga dell'ente stesso al quale la sua attività è rivolta. Come e perché è avvenuto ciò? La spiegazione sta nell'opera politica e nella geniale visione di Camillo Benzo di Cavour, riassunta nella frase da lui usata in una lettera del 1860, fare l'Italia per costituirla poi. L'idea cioè che si dovesse lavorare con le istituzioni esistenti per cogliere il momento propizio, rifiutando quindi l'idea mazziniana di un'assemblea costituente che avrebbe potuto mettere in dubbio l'unità. Questo disegno ci ha lasciato gli organi più robusti preesistenti, come il Consiglio di Stato. Basta leggere la grande storia dei consiglieri di Stato, promossa dal Consiglio stesso e diretta da Guido Melis, per vedere come essa si intrecci con quasi tutti i capitoli e le fasi della storia italiana. Quest'organo è stato il vivaio nel quale sono cresciuti o sono approdati economisti, ad esempio Boccardo, statistici, penso a Bodio, statisti, basta citare Cordova e Giolitti, Gran Commie, per esempio Astengo, Saredo, Peano, Petrocchi, Schanzer e Pironti, costituenti, ad esempio Ruini e giudici costituzionali. Nel sessantennio di vita della Corte Costituzionale essa ha avuto tre presidenti provenienti da Palazzo Spada. Quel disegno ha anche avuto un aspetto negativo, in quanto ha prodotto una costituzionalizzazione debole, se paragonata a quella di altri paesi. Si compari il fragile statuto albertino alla Costituzione americana. Uno dei più grandi storici delle istituzioni ha notato che questa è più di un testo legale, è un libro sacro, oggetto di venerazione, fondamento di una religione civile. Terzo paradosso. Il Consiglio di Stato sfida uno dei principi dallo Stato moderno, quello di divisione dei poteri. È organo di consulenza amministrativa e pepinier due gran commis, come dicono i francesi, e allo stesso tempo giudice. Orlando notava che l'espressione giuridizione amministrativa è impropria. Se è giuridizione non può essere amministrazione e viceversa. L'amministratore giudice, osservava Orlando, è giudice in causa propria. Di qui la sua negazione del carattere giurisdizionale della quarta sezione. Eppure i Consigli di Stato, nati in contesti diversi, per funzioni diverse, si sono affermati come giudici di grande successo in patria. Basti pensare all'aumento della domanda di giustizia che ad essi si rivolge in Francia e in Italia, come osservato poc'anzi dal presidente dell'Ise, è notato dal vicepresidente Sovè nel suo contributo alla raccolta di studi che oggi viene qui presentata. Inoltre, un po' dovunque nel mondo, penso soprattutto agli Stati Uniti, al Regno Unito, all'Australia, alla più grande provincia del Canada, l'Ontario, si stanno sviluppando tribunali amministrativi che percorrono la stessa strada del Consiglio d'età francese e del Consiglio di Stato italiano. Nati come organi amministrativi sviluppano un'attività contenziosa nel senso italiano, non in quello francese del termine, acquistano poi una certa indipendenza e adottano procedure in contraddittorio, infine ottengono maggiore indipendenza assicurata attraverso organi centrali di garanzia. E dovrei menzionare i vari organi che con denominazioni diverse, compliance committees, inspection panels o inquiry commissions, costituiscono l'embrione della giustizia amministrativa, espressione che Orlando riteneva un ossimoro nel mondo sovranazionale o globale. Concludo. Il Consiglio di Stato italiano è uno dei pochi organi pubblici costituzionali o di rilevanza costituzionale che possano registrare al proprio attivo una così ricca messe di successi. Non voglio dire che nei molti presenti della sua storia esso sia sempre stato consapevole di questo glorioso passato, né che sia sempre stato alla sua altezza. Ricordo la critica a Leopoldo Elia che svolgeva nel gennaio 1973, ma esso ha dato sempre un contributo positivo al funzionamento delle istituzioni, ha, come dicono gli inglesi, sempre contribuito alla loro fertilizzazione. La sua forza futura starà anche nella sua capacità di continuare a dialogare con altre corti non nazionali. Mi riferisco a quelle europee e a molti altri tribunali amministrativi che, come dicevo poc'anzi, in vesti diverse proliferano oltre lo Stato e nella perseveranza con la quale indurrà le amministrazioni italiane ad adottare i moduli propri della democrazia amministrativa a consentire la partecipazione degli interessati politici alla formazione delle decisioni collettive. Prende la parola il Vice Presidente del Consiglio d'Età, Monsieur Jean-Marc Sauvé. Signor Presidente della Repubblica, Alte Autorità, ringrazio le Alte Autorità della Repubblica italiana e il Presidente dell'Ise per l'onore che mi hanno concesso invitandomi a prendere la parola in occasione del 180esimo anniversario del Consiglio di Stato d'Italia, istituzione che da molto tempo ha conquistato la stima e il rispetto dell'omologhe istituzioni in Europa. Alla luce di questo avvenimento che ci arietta, vorrei sottolineare il ruolo che la giustizia ha e deve avere in un sistema di separazione di poteri. Nella visione classica dei tre poteri di Montesquieu, quello di giudicare che Elie definiva così terribile tra gli uomini, doveva, secondo le sue stesse parole, essere in qualche modo nullo. Nella migliore delle ipotesi, la giustizia non poteva che essere un'autorità passiva, ma le atrocità che il nostro continente ha conosciuto nel corso del ventesimo secolo hanno condotto a consegrare l'indipendenza della giustizia all'interno della Costituzione di numerosi Stati, come l'Italia o la Francia, per proteggere la persona umana contro i rischi della terrania che da essa possono derivare in tutte le forme di sovranità, ivi compresa la sovranità popolare. Ha così trovato, conferma e si è fortificata, di dipendenza del Consiglio di Stato d'Italia che dal 1831 e più ancora dal 1889, con la creazione della quarta sezione, istituita per giudicare l'amministrazione e una pietra angolare della sottoposizione al diritto dei soggetti pubblici e in particolare dello Stato. La garanzia dei diritti fondamentali è indissociabile dall'esistenza di tre poteri separati e dunque dall'esistenza di una giustizia indipendente perché solo l'indipendenza e l'autorità della giustizia possono permettere alla stessa di adempiere alla funzione che l'aspetta in una democrazia, quella di essere custode del patto sociale e pertanto compito e responsabilità dei tre poteri di vigilare per la salvaguardia di questa indipendenza e di questa autorità. Mi consenta, signor Presidente, di parlare in una lingua che conosco meglio della lingua di Dante. La justice è l'ultimo gardien dei valori e dei principes che il popolo s'è donna per la Constitution e la Loi. Elle assure, in un tempo lungo, la pérennità e l'efficienza dei grandi principes democratiche e dei diritti fondamentali della persona. Le garantie spazifiche, cioè il stato di lavoro, in un regime di separazione dei poveri, sono la traduzione giuridica di questa missione di guardien del pacto sociale che lui è assignata. Ces garanties protegent l'indipendente e le competenze delle giuridizioni. Ainsi, la Constitutione della Repubblica italiana definisce e garantisce la mission giuridizionale del Conseil d'Etat, che consiste a protegere le interei legittime e dei diritti subjecti dei persone. Elle consacre, anche, l'indipendente della justice, in confiant al Presidente della Repubblica una mission di garantia fondamentale dell'equilibrio dei poveri. Ces garanties protegent, anche, ogni giro, delle influenze che potrebbero esserciere gli altri poveri. Tel è il senso del principe d'inamovibilità e dell'interdizione d'adversi delle injoncioni al giro in l'exercito di queste funzioni juridizionali. A côté di l'indipendente, il stato di la justice garantisce anche che la disposizione di l'autorità necessaria a l'exercito di sua funzione di guardien del pacto sociale. Il implica che l'impartialità dei giro non può essere misa in doute. Seule una justice impartiale può essere respectata. Le principe directo del progetto, il principe del debato contradictorio, la publicità delle audizioni e delle decisioni di giro o l'igualità delle arme servono un tel obiettivo. Le garantie che entro la nominazione dei giro concorre anche a rinforzare l'indipendente e l'impartialità dei magistrati. L'indipendente e l'autorità sono quindi al cuore della funzione di giro in un stato di giro. Il è da lorità della responsabilità dei tre pouvoiri di salvaguardare. Le limiti delle influenze legittime di chiun dei pouvoiri sull'altro dovrebbero trovare le loro source nella constitution e nella loi. Il implica dei debati che sono tanto di responsabilità per la giustizia d'una parte e per gli altri pouvoiri d'altra parte. Le debati della giustizia reposano sull'instituzione giuridizionale in son ensemble e su ogni giro. L'instituzione giuridizionale deve d'abord rispondere a una exigione di qualità che concorre a l'autorità della giustizia tanto che a la confianza che le citoyen lui portano. Questa exigione impone che la giustizia sia accessibile, che ses prognosti sia transparente e equitabile, che ses decisions puissano essere comprise e sono rendute con celerità. La giustizia ha anche un devoir di coerente. La giustizia deve essere stabile e previsibile. E la giustizia deve relire harmonieusement le droit issus dei sistemi giuridici che sono adesso imbriquati. Questo è vero al plan interno, car un sistema di specializzazione giuridizionale, come in Italia e in Francia, suppose una più grande responsabilità ancora dei giustizia. Questo è anche vero al plan europeo, nel senso di un dialogo di giustizia aperto e constructivo che sia respectivo della giustizia dei normi. Ma leggi dei giustizia reposano anche su ogni giustizia. Ce sono dei giustizia di retenimento, perché rendere la giustizia, non fare giustizia. Il giustizia, servizio della constitution e della loi, deve perciare una pratica professionale vertuosa, ferma e senza passione. La competenza è un altro devoir, car l'autorità della giustizia repose sul rispetto scrupuleuxo della riguarda nella direzione del progetto e nel ragionamento juridico. L'ouverture s'impose, non solo prendere in considerazione dei rischi di tutta natura, ma anche mesurare e assumere le conseguenze delle decisioni che rende. Preservi la separazione e l'equilibrio dei poveri implica anche che il povere exercutivo e il povere legislativo riconosce pienamente l'indipendente e l'autorità della giustizia. Il appartiene ainsi a questi due poveri di fixare il quadro normativo di l'attività giuridizionale e di allare alla giustizia le moyens necessari a son funzionamento normal. Le principi fondamentale del droit a un procès equitabile implica anche che il povere exercutivo rispetto pienamente le decisioni di giustizia e in assiure l'execution. Lorsqu'ils usano del loro di valida delle decisioni passate, le povere exercutivo e legislativo dovrebbero s'abstenere di maniera disproporzionata sull'office del giugno. Enfin, ni le constituant ni le législateur ne devraient pouvoir réformer l'organisation des juridictions, les règles de procédure ou les garanties statutaires des juges pour des motifs partisans, pour tenter d'influencer la solution d'un litige ou pour sanctionner les juges ou des décisions de justice. Quant au pouvoir exécutif, il doit s'abstenir de toute pression directe ou indirecte sur les juges, de telles ingérences et interférences dans le cours de la justice, aussi blâmables que vènes le plus souvent, mettent en effet à l'épreuve la séparation des pouvoirs et la solidité du pacte constitutionnel. «Questo patto constituzionale che riunisce i tre poteri è un atto fondatore, è quello della democrazia e dello Stato di diritto, ma è un atto fragile. La sua perennità dipende dalla responsabilità di tutti. Questa responsabilità noi dobbiamo assumerla per preservare i valori e i principi che il popolo sovrano si è dato, che sono scolpiti nelle nostre Costituzioni e che inoltre danno forza agli impegni europei e internazionali che abbiamo assunto. tali impegni ci ricordano che i valori e i principi di cui i giudici in Italia come in Francia e nel resto d'Europa sono i custodi noi li condividiamo con l'intera umanità. Il Consiglio di Stato d'Italia nel corso della sua lunga e ricca storia ha dato lustro a tali valori e a questi principi. Esso ha apportato attraverso il suo ruolo di giudice e di consigliere indipendente un contributo fondamentale alla costruzione dello Stato di diritto in Italia e in Europa. Nella mia qualità di Presidente di una giurisdizione amministrativa d'Europa ne rendo testimonianza e ad esso esprimo la mia riconoscenza. Vi volgo altressi gli auguri più calorosi per la prosecuzione della sua alta e feconda missione. Prende la parola il Presidente della Repubblica. Signori rappresentanti del Parlamento e del Governo, Signor Presidente della Corte Costituzionale, Signor Presidente della Corte dei Conti, Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione, Caro Presidente dell'ISE, caro Professor Cassese, Signor Vicepresidente Sovè, nostro gradito ospite, autorità e illustri partecipanti, a voi tutti il mio più cordiale saluto. è davvero un felice incrocio quello che oggi, sul finire del 2011, noi celebriamo tra centottantesimo anniversario della nascita del Consiglio di Stato e centocinquantesimo dell'Unità d'Italia. Esso vale innanzitutto a richiamare l'importanza del terreno su cui si impiantò il nostro Stato nazionale, il valore dei tratti liberali e moderni che poterono attingersi dall'evoluzione del Piemonte Sabaudo come antecedente storico del Regno d'Italia. Il valore di istituti, come appunto il Consiglio di Stato, anticipato già da Carlo Alberto nel 1831. In occasione del centenario, Santi Romano sottolineò come la introduzione di quell'istituto avesse rappresentato una concessione, sia pur modesta, alla tendenza verso un regime costituzionale, un passo notevole sulla via delle auspicate riforme politiche. Il nuovo Regno, tuttavia, con la legge del 1865, inizialmente rifiutò l'idea di un contenzioso amministrativo speciale con l'argomento proprio delle correnti liberali dell'epoca che l'amministrazione dovesse essere sottoposta al giudice comune. L'esigenza di garantire effettivi strumenti di tutela al cittadino nei confronti degli apparati pubblici, spinse però il legislatore a ritornare su quella decisione. Nel 1889, con la istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, e quindi nel 1890, con la legge sulla giustizia amministrativa. Fu a Silvio Spaventa che toccò dopo essersi eloquentemente battuto per l'approvazione di tali norme l'opera di formazione della quarta sezione del Consiglio di Stato. Lo mise bene in luce Benedetto Croce in una vigorosa pagina del marzo 1925, reagendo in modo sprezzante al tentativo del fascismo ormai dominante di presentare lo Spaventa come precursore della propria idolatria dello Stato. A quel forte giurista che aveva pagato con l'esilio e con la condanna all'ergastolo di Santo Stefano la sua fede liberale, importava semplicemente nel richiamarsi al concetto dello Stato di diritto, così scrisse Croce, la necessità di garantire a tutti i cittadini la giustizia, rendendo più certe meglio amministrate le norme legislative e impedendo o frenando l'arbitrio dei partiti che prendono il governo. Fine della citazione. Nello stesso spirito sono sempre state e sono chiamate a svolgersi sia le funzioni giurisdizionali sia le funzioni consultive del Consiglio di Stato. Esse appartengono entrambe alla sfera delle garanzie e degli equilibri istituzionali, a tutela dei diritti dei cittadini e del corretto operare di uno Stato che voglia restare ancorato a principi di libertà e democrazia. Credo che alcuni di questi aspetti non abbiano assunto sufficiente evidenza nelle celebrazioni pur così ricche di significati del centocinquantenario dell'Unità d'Italia. Anche perciò appare felice e stimolante l'incrocio prima richiamato con il centottantesimo anniversario del Consiglio di Stato. C'è da far conoscere e apprezzare meglio l'intero quadro delle nostre istituzioni senza sottovalutare gli organi ausiliari, il loro ruolo e la loro indipendenza di fronte al Governo. Si avverte oggi un acuto bisogno, lasciatemelo dire, di più cultura delle istituzioni, di più senso delle istituzioni, di più attenzione all'esercizio delle funzioni dello Stato e alle condizioni in cui versano le sue strutture portanti. E vorrei qui dire per inciso che è ormai essenziale, certo, una visione ampia innanzitutto europea dell'evolversi e dell'intrecciarsi delle esperienze istituzionali senza cadere, peraltro, in equivoci pericolosi. La necessità, cioè, sempre più matura, di estendere l'area della sovranità condivisa, il cui esercizio sia affidato in Europa alle istituzioni dell'Unione, nulla toglie all'esigenza di un efficace funzionamento e quindi di un rafforzamento delle strutture di uno Stato nazionale come il nostro, storicamente caratterizzato da intrinseche debolezze e oggi esposto a rischi di grave inadeguatezza. Anche nel quadro di un ulteriore avanzamento del processo di integrazione europea restano affidate inderogabili funzioni agli Stati nazionali e decisivo resta il loro concorso al perseguimento delle stesse politiche comuni europee. Responsabilità, professionalità e indipendenza sono, ha detto il Presidente dell'ISE, i valori fondamentali cui la magistratura amministrativa deve continuare a ispirarsi dinanzi alle sfide dell'oggi, così da contribuire a una migliore giustizia e mi si consente di richiamare anche questa esigenza a una migliore legislazione. Per quanto antico o permanente sia il rischio del legiferare confusamente in modo contraddittorio e tecnicamente difettoso, non c'è dubbio che in tempi recenti vi sia stato un sensibile scadimento del processo di formazione delle leggi. E' auspico perciò che un forte impegno a reagire a tale scadimento possa venire dalle energie che per vari canali può dispensare il corpo dei consiglieri di Stato, in particolare nello svolgimento di funzioni di consulenza e collaborazione in seno ai ministeri, da assolvere sempre con pieno senso e scrupolo del servizio esclusivamente rivolto all'interesse pubblico. sappiamo d'altronde quale magnifica fucina e scuola di formazione di servitori della cosa pubblica, responsabili, professionali e indipendenti sia stato e resti il Consiglio di Stato. Questa è certamente l'occasione per tributare un omaggio a tante figure del passato e del presente, in special modo a coloro che si affermano anche in età assai giovane nel superare rigorose selezioni e nell'adempiere il loro servizio. Sono stati evocati oggi, come era giusto, in primo luogo nomi di grandi italiani, da quello già da me citato di Silvio Spaventa, a quello di Giovanni Giolitti, guida sapiente in un periodo storico cruciale dello Stato liberale, a quello di Meuccio Ruini, la cui significativa esperienza in Consiglio di Stato lo predispose in non lieve misura a fare al meglio la sua parte di accurato conduttore dell'opera di progettazione della nostra Carta fondamentale in seno all'Assemblea Costituente. E il modo migliore di raccogliere queste molteplici eredità resta quello di consolidare le basi della Costituzione Repubblicana, gli equilibri e le garanzie che essa ha fondato, di partire di qui, anche nel guardare a ogni esigenza di riforma che si possa seriamente proporre nell'interesse generale. Grazie e auguri al Consiglio di Stato. Grazie. Grazie. Grazie.